Ciao ragazzi, oggi facciamo una reaction su un altro video dei BTS che è Fake Love Io so già cosa dirai, bello sfondo, no, ma non sono colorati, è vero, è già una partenza completamente diversa, senza colori, molto scura, loro di solito sono luminosi, colorati, è vero, è completamente diverso da quelli che abbiamo visto finora. Sì, è vero. Eh, quando ho detto qualcosa in inglese, anche, non avevo fatto caso, qua, non stavano, scusami, aspetta. Sì, è vero. È vero? Qua non è vero. Qua non è vero. Poi un po'. Facciamo un mix, ma anche nelle altre canzoni comunque io avevo notato che facevano sempre un po' un mix. È vero che in alcune parti... Comunque è già molto cupo questo video rispetto agli altri. Sì, però devo dire che ormai che ne abbiamo visti, questo è il nostro quarto, sarà perché forse stiamo vedendo effettivamente le canzoni più famose, quelle che hanno avuto un impatto più forte, e quindi anche per questo che sono così diverse l'una dall'altra, ma effettivamente ogni canzone che abbiamo ascoltato è estremamente diversa. È vero. Sentire le loro voce ci sono loro, ma lo stile musicale è diverso, la scenografia è diversa, la sensazione che ti trasmette è diversa. È vero. Riescono sempre a creare dei mix tra vari generi, sia musicali ma anche visivamente parlando, proprio lo stile, i colori, eccetera. Comunque io sono curiosa veramente di conoscere le dinamiche interne, perché sette sono tanti. È vero. Anch'io sarei curiosa di sapere qualche aneddoto dietro le scene, di come se tra di loro sono molto uniti, se sono molto amici, se c'è qualche dinamica che si è instaurata tra di loro negli anni. È vero. Anche perché sono sette anni ormai che sono assieme. Avevamo visto che era il 2013. Sì. Tra l'altro, mi pare ci avessero detto che il più giovane ha 23 anni adesso. Più grande. Quindi a 16 anni hanno iniziato. Esatto. Che poi si sa che è chiaro che ci sono tantissimi esempi in cui la fama ha trasformato tantissime persone, è diventata famosissime. E qui stiamo parlando degli esponenti, penso, tra i più popolari e quelli che comunque hanno ricevuto più fama in assoluto negli ultimi anni. Perché abbiamo visto che hanno praticamente detenuto qualsiasi record. tutte le loro canzoni sono state delle hit indiscusse. Per cui immagino che da quando si sono formati ad oggi, loro veramente abbiano visto una crescita. Hanno scalato in maniera anche... Uuali. Sì. E tra l'altro una cosa interessante, sarebbe interessante sapere se come quasi tutti i giovanissimi che sono diventati famosi, si hanno avuto ripercussioni. Perché alla fine si vede le star che sono diventate famose a 16-17 anni, hanno quasi sempre avuto poi difficoltà, problemi, crescendo. È vero. Soprattutto essendo in così tanti, chissà quante storie personali si sono intrecciate. O se si sono invece un po' protetti, perché essendo in tanti e non un 16enne che diventa famoso, o se essendo in gruppo magari si sono un po' protetti tra di loro e sono riusciti a mantenere... Anche di età un po' diverse. Cioè, ok, sono più o meno coetanei, però comunque se uno ne aveva 16, uno ne aveva già magari 20. Una ventina, sì. Effettivamente è molto interessante la dinamica del fatto che hanno raggiunto un successo così grande, ma essendo parte di un gruppo. Sì. 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 Ha sicuramente un messaggio diverso dalle canzoni più allegre che abbiamo visto fino ad adesso. Cioè, si vede che è più quasi introspettiva come canzone o che comunque parla di temi più pesanti. Infatti dicono spesso l'amore per se stessi o comunque parla di un amore finto, quindi si capisce che vuole dare un messaggio diverso. Sì. I loro sfondi, cioè il background è sempre curatissimo. È vero. In tutti i video sono super dettagliati, particolari e fantastici. Si vede che sono studiati fino al minimo dettaglio. Quello è con le mani e è impressionante comunque, quello è lo sfondo con le mani che emergono, è bellissimo. Tra l'altro una cosa che avevo letto è che in contrapposizione a Dynamite, dove ci sono anche delle scene in cui loro ballano e vedi che le loro mani e i loro corpi sono intracciati tra di loro creando una continuità tra tutto il gruppo. In questo video invece si vede proprio il fatto che sono spezzati tra di loro anche in l'immagine che tu sei ballato delle mani, le mani non si toccano mai, quindi proprio c'è una forte contrapposizione rispetto a DNA. Sì. Comunque loro sono nati come band un po' hip hop, se non sbaglio. È vero. Quindi sì. E come significa le barrette di sneaker su cui era distesa? No, chissà. Allora sicuramente ha significato, immagino, se non è detto proprio quello snack. Allora sicuramente. Quella era la teca su cui c'era il fiore all'inizio. No. Ecco. Quella è liscia, no? Quella è liscia, no? La faccia, no? No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.